E ben trovati per il quarto round della VSK Master Series, siamo a Siena, Castelnuovo Berardenga, panoramica, giù di panoramica Ronni a far vedere le colline senesi e nella panoramica rientrano anche Alessandro Ferrari e Oronzo Di Bari che salutano con la manina, salutano a casa, ciao mamma, ciao a tutti, ciao la fidanzata che è a casa, la fidanzata è a casa, le donne sono tutte a casa, ciao donne, Ciao, comunque siamo qui per il kart ovviamente, il kart che conta la serie di riferimento per quanto riguarda il karting nazionale, anche se poi sapete benissimo che vengono da tutto il mondo per partecipare a questa VSK Master Series che come dicevamo ha raggiunto ormai il quarto appuntamento dei 5 in programma quest'anno, dopo questo round di Siena si andrà a effettuare una pausa un filino lunga fino a settembre se non ricordo male 25 settembre a Viterbo, l'ultima prova Mi piace quando fai il professorino, mi gratifichi e mi fai pensare che ho speso bene i soldi per mandarti a scuola fino alla terza elementare, dopo no, poi basta Comunque dicevamo il campionato è ancora aperto, apertissimo, KF2 c'è questo scontro al vertice tra italiani che ci piace tanto, tra Marche che ci piace tanto, Birel contro PCR, quindi Giovinazzi contro Cuco, Cuco che era partito benissimo mentre c'è della gente che gira per la pista, non è bellissimo, non è giusto, siamo nella pausa pranzo però questo ce lo potete concedere, quindi la gente fa un po' quel caspita che gli pare Dicevamo appunto scontro al vertice per quanto riguarda la KF2, poi chiaramente un leader quasi incontrastato, Marco Dionisius nella 60, KF3, tu ti ricordi chi c'è in testa? Più o meno Più o meno lui, va sempre bene lui Devo dire che comunque ha un crescendo molto importante Se la cava, se la cava, no ma poi è costante Sì, beh io devo dire che soprattutto le ultime 2-3, bravo Mi è piaciuto poi lì in quella no, quella volta, anche col bagnato ho dimostrato che comunque ci sa fare, bravo, 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 bravo Porca, porca miseria, porca miseria, porca miseria il sole, porca miseria però anche le nuvole Le nuvole, e questo è un po' Trasformati in No, no, devi parlare in microfono Trasformati in Bernacca o come si chiama quello lì È morto Bernacca Trasformati, stenditi Va da terra, no, parte gli scherzi Uno dei temi fondamentali di questo weekend è proprio il cielo Non tanto la pista quanto il cielo Perché? Perché in questi giorni, nei giorni che sono passati, ieri, l'altro ieri, eccetera Abbiamo visto che, almeno ci hanno detto, noi non eravamo presenti, siamo arrivati oggi Abbiamo visto, abbiamo saputo che appunto verso il primo pomeriggio il tempo cambia Arriva la pioggia, siamo riusciti a fare anche tre cambi gomme prima di una manche Mi dicevano gli uomini della Lenzocart, tipo team di Formula 1 E se guardi lì, Ronnie, veramente sta arrivando un bel nuvolone Carico, carico di pioggia Guardavo il dito Quando tu indichi il dito, io Perché lo scemo, quando il dito indica, non guarda esatto dove indica il dito, ma guarda il dito E tu, chiaramente Sono scemo Ok, l'hai detto tu Dicevamo, quelle nuvole molto probabilmente andranno a determinare lo svolgersi delle gare Svolgersi delle gare che entra nel vivo già quest'oggi per quanto riguarda KZ1 e KZ2 Se in KZ1, voglio dire, se ti va male fai il secondo perché ci sono solo la Visser e Paolino De Conto In KZ2 la cosa è ben più aperta E c'è un Marco Zanchetta che è davvero col CKRTM preparato dai fratelli Rizzi Che è davvero in grandissimo spolvero, gli abbiamo parlato prima, ha detto che si sente in forma Che è dura perché fa molto caldo, molto molto caldo Ed è faticosa, le gare sono chiaramente lunghe Adesso nel pomeriggio, questo pomeriggio ci sarà la prima delle due finali in programma Già quest'oggi, di sabato, 20 giri per i KZ Dicevamo, con Zanchetta in prima posizione Seconda piazza, Betsky-Wisser L'olandesina che sappiamo conoscere molto bene questa pista Sappiamo apprezzare molto questa pista L'anno scorso qui vinse, quindi proprio nella Master Series E fu un po' il trampolino di lancio verso la vittoria che andò a raccogliere poi nell'ultima tappa a Castelletto di Branduzzo Vedremo se l'olandesina riuscirà a tenere a bada Marco Zanchetta da una parte E anche Paolino De Conto alle sue spalle Poi abbiamo Mirko Torsellini e degli compagni Queste le prime quattro posizioni per quanto riguarda la KZ I primi tre nomi che abbiamo detto, soprattutto Visser e Zanchetta Un filino più magari anche di Paolo De Conto Sono i piloti più in forma Andremo a vedere più tardi, dopo la prima delle finali Se le nostre previsioni sono confermate